La mia però Google Ma Dio Cristo Si ma non mi fa entrare su Google Che fa Google? Devo guardare la live se mi iscrivi a me Vabbè in tal caso me lo dici tu Ah si certo Ok Quindi mouse e tastiera Qu'è? Vedi che non vedi il gioco Aspetta Non vedi il gioco Mi hanno dato la conferma che posso iniziare No aspetta Non vedi il gioco Il gioco da dove lo devi vedere Non lo sto vedendo Come no E infatti non si vede nulla Cosa vedi Fai catturare il gioco Certo ve l'ho fatto Guarda qua Alta F4 Allora Vedi ora Si vede Aspetta E vedi il tuo schermo ora Si Quindi si vede Il tuo schermo si ma il gioco non si vede Ok Allora questo qua è quello Where 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 Allora voglio fare Where 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 Rimuovi Mentre lui ha deciso che non lo rimuovi Lui ha deciso che non funziona più Ah no fai cattura schermo Fai cattura schermo Aspetta Con il cattura schermo Gioca 2k Dove la stanno Cattura a gioco Hai per scelta Fai cattura schermo Fai prima Esattamente Crea Eh no già c'erò il cattura schermo vedi Eccolo devi fare Eh ce l'ho già C'era Santo Ma porco Aspetta Cattura la finestra Che cazzo fe ne c'è Visaggio Ah No aspetta Ah ok ho sbagliato io Aspetta Ah ok Oh Tra me e me si parla così La cattura non è così Allora sto prendendo il gioco Buono partito Allora uno Ok Il gioco si vede a posto Come si vede Il gioco si vede Come cazzo fa mi si vede Se non aggiungia E' fatto che tu lo schermo Già c'era lo schermo Va bene A posto La musica si sente Dimmelo Già c'era lo schermo Bene A posto La musica si sente Grazie Tim Sì la musica si sente Si Si A posto La musica che cazzo Eh no Adiciamo 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 Te lo posso mettere anche qua Te lo ho messo No Ma si Non mi mette sempre No Ok posso 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 entrare Posso Ah beh dateci un bel video Io intanto Mi chiamate Vai Basta vai Mi sta venendo un po' penare Che c'è a fare Già che c'è Ah Già che c'è Ma mi picchia patatine Oh belli si scappa Non so chi C'è picchia Chilo Ha pasmofobia Ah Mi picchia patatine Sai Il visaggio È un gioco difficile E complesso La pazienza Durante le taggine Buona gestione Delle risorse Questa è un gioco È un gioco Loading Ma se è italiano Vi che parla in inglese Questa è un gioco È un gioco È un gioco Sado Studio Puoi senta Tanto già so Che ci vorrò fare Tanti di questo momento Vedi che ti riposo È una pistola 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 Ah non c'è sempre Questo che sta ricaricando È maschio C'è ne che non è Una femmina pelosa Chi da che aveva davanti È sto munghiere Dopo che ci fottiva Che te crede tu E sti cattavo i scappi Dato c'è il gabbanino Eh ma non mi ha potuto vedere Sai che ci dissi Non solo devi chieste me catta Ti cattassi scappi buoni Aspatti si è ancora A pedo intera Sì sì Allora Vinsi che io so Come adesso È una famiglia C'è no Ce l'ho È il xbox Sì, cazzo! figlio bastardo capiamo che già conosco il gioco e c'ho già fatto i microtestati allora uuuh una donna minchia la sensibilità che cazzo ridi sottotitoli si mi piacciono i sottotitoli si che sono come noi parliamo audio video audio video comandi sensibilità orizzontale sensibilità verticale mettiamo più o meno uguale molto meglio nel tempo può capire pari mia o pari di tu au vediamo che cagai sopra cucuoso hai risponde o vuoi aspetta allora ctrl e mi basso e mi alzo ah luca interagisce pronto so che è tardi e spesso mi agito delle sciocchezze e ti chiedo scusa per questo ma mi sto un po' preoccupando ah che cosa che succede sono ormai tre settimane che non ti vedo uscire di casa e che cazzo ti hanno fatti puoi chiamarmi solo per farmi sapere se va tutto bene ciao ciao ah fai torri un pericolo come si stacca F riaggancia il telefono aspetta però c'è scritto qualcosa qua prima mi avvicino poi lo prendo sa ah vabbè sono i numeri allora hai preparare o ventare le mani e per portare due gette una mano sinistra e una mano destra ah pensavi che ero smorzato allora per gettarli ci ha cf e ti avrai appunto clicca sinistro clicca destro fai butti quello che non ti vuoi allora afferra tenendo premuto muoviti e fin qua apriamo tutto picchiamo questo non potemo picchiamo il dipp non potemo prendiamo questi non possiamo prendiamo quei ah quanto vuoi ma perché mi stasera la calibreria? ah? perché ti fai stasera la calibreria? non lo so perché che cazzo ne so fammi girare un po' fammi conoscere le meccaniche di gioco ok allora caccio sui sigarette e caccio una lattina allora attiva rotazione sto scherzando attiva si ma fammi leggere non ah ok così va bene questa è la rotazione ok con esamina esamina tasto sinistro esamina tasto destro c'è lo sia con chi non capisce con la F solo debutto e fallo con la F rilascia rilascia perché c'è una mano sinistra tasto destro perché c'è una mano sinistra ok ho capito ho capito ma che ci vuole un po' per capire questa cosa qua interagisci le candele possono essere posizionate qui ok ti giuro quando ho iniziato a giocare a sto gioco se vabbè sarà la solita carina invece ma io vorremmo questa stanza contiene tutti gli oggetti che rappresentano i progressi di gioco questi oggetti vengono raccolti in modi diversi incluso a termine di un capitolo una volta raccolti appariranno automaticamente vabbè io però forse qua che fa? non c'è la qui il coso come si chiama? no comunque non c'è il fob niente non c'è vabbè un biscotto non è biscotto questa è cira vabbè qua pure possono essere posizionate no siamo in una specie di espositore lasciamo da un nozzo una cannila si si lo so l'ho detto prima settimane è una candela ma si spegne cazzo tu è un carcianto muro vabbè non sono un accendino vabbè intanto la lascio qua cazzo la dove il sole a un avanti rombo un po' un po' questo questo non è una porta vabbè vediamo anche i cassetti vediamo sembra una specie si usacce c'è niente vabbè io questa me la porterei là sotto questa è bella scaccia la scaccia la aspetta no 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 ok tap con contabella ecco vabbè fai il menu evita di rimanere troppo al buio eh aspetta che un menu va guarda in basso a sinistra no no aspetta in basso a sinistra si quella macchia che c'era prima eh ok e fin qua fino all'occhio voglio dire non esegui un bel momento scianità il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco restare troppo a lungo al buio il tuo re il livello è indicato un'icona a forma di cervello che si trova nell'angolo in basso a sinistra ok praticamente io appena vedo questa icona completa muoio e fin qua guarda questo va a chiamare la tercera no metto la tercera ah vedi ah ok il canno non puoi gannare ma anche il canno vai qua interagisce vabbè non avevo gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso del gioco impara ad identificarli perché ostacolano il tuo cammino riducono drasticamente il tuo livello di sanità il livello di sanità mentale il tuo personaggio influisce sulla sua volta a frequenza compasso gli eventi paranormali vabbè ah madonna ok quindi la lampadina aspettami guarda questa luce toh a eserciò un giorno la prima dì vabbè sulle oggi abbiamo un piuttosto che e avremo avremo il suo niente è Dwayne Anderson è il suo è mudo ah che è questo di questo è un patino non lo hai visto Le lampadine possono essere utilizzate per riparare le lampade e i lampadari Ok Prendi sta lampadina L'ho presa sulla mano sinistra La posso mettere qua? In cacusugno Quella qua c'è sempre insieme ora Eh Soprò fare un urgo a me Vabbè fin dove è chiuso io non ci devo andare E' messo Perché è una brutta esperienza che i cappotti Andiamo avanti Ah Andiamo avanti Oh Allora qua c'è il cesso Che non mi piace Andiamo tipo qua Ah Ma il burro non ce l'hai al massimo? Più o meno No Perché Ah minchia pensavo che era una bambola Non lo sa Oh io ho paura delle bambole No troppo buio non ci entro qua Andiamo avanti Andiamo di qua Non c'è un po' sacchiotto No no figlio non si può entrare No no figlio non si può entrare No figlio non si può entrare No figlio non si può entrare Ah mi hai fuoco Guarda la luce Minchia aperta Adesso Luce Funziona Oh Cazzo fa scava Chi cura Sì voi ti dico qualcosa Tutto cosa Qua c'è un altro Non 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 c'è un altro No Ah un coppo Ah no Cazzo fa sulla sta cosa Ma la guardava Eeeh 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 Che fai Gigi Agostino Eeeh 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 Appunto A volte sono oggetti che sono scosti Radio Cadella che mette voglia una volta Cucu Non c'è nessun posto Vediamo contento No Rettigienica Che ho fatto ma di più Sì sì Vole vediamo Ancora poi Può toccare quasi tante cose Può toccare Ma che sto chi è Eeeh Fagioli Patete e fagioli E sto cosa Lassativo Eeeh Sono essenziali per la supervivenza Quando è il tuo Quando è il tuo E' presente con l'unica soluzione Va bene Eeeh Ma è nello cazzo Esamina Rilascia Quindi esamina Vedi quante vele ci sono comunque Per te le regole E se lo svuoto così Ah non sono magnetici No Che cazzo Se ne è mangiati vero Se ne è mangiati Quanta Guarda Esamina Ma vecchie Sono moccato una pinnuletta Io non fici niente Non mi ha detto Manco quanto si usano Ma non li posso mettere qua Tipo Si Scacciate da sinistro Ma fai Ma che prima C'era un puzzantino Ah aspetta Mancchia Con guarda di totale circa Vabbè qua non c'è niente Questo è un po' Eeeh Vabbè Devo pur farlo Vabbiamo poi a girare a tutte le stanze Volendo o non volendo Molto più tranquillo Allo Oh ci sono Di caino No Vestidi Ounque Fuori piove Oh Giù la lampada Mi piace l'ansia Che c'è qua E' dentro la stanza Luce Luce dentro la stanza Da c'è dove Entra il trentone Esatto Oh Va da luci La Vedi che da ci si vede la cammera Scusa Aspettate Ok Ah dai Scusa sti pillole Che pillole Eh dietro No lo ho preso No la Destra Destra Ecco di fronte a destra Eccola Ah ok mi doi abituare a vedere questo scaletto Eccola C'è quella cammela Sì c'è una mano finissima e una mano destra ChePat Che O Capto C'è qua Un'altra Un altro Pagleta Ma Dona Quante pillole ci sono Eh però No Ci sono Però C'è qua Mi dobbiamo Eccola Tipo quello che ho preso prima C'è qua Un cuccuno C'èismo Come si chiama Accentino Accentino come non tutte le mani che accendini sono utilizzati come fronte vabbè non soccorre che giù ad accendere tac prendevo il tasto destro il popolo testo non ho fatto cose come si prende così non so accendere però se il settimo si spegne c'era poi giocato ma poi giocando c'è successo e soffiato cd 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 questo è vero non c'è ne più cd forza io non ho detto io qualcosa se tutto sono e non fare niente ancora non hai visto e dai settimane mentre rende a mano la farai spegne una cugia ora modici vero che cosa c'è qua dentro io ho detto che sento l'ammario si è aperto solo c'è qualcuno là dentro lo affazzo eh dai però eh non è che non mi posso muovere ma questo è il primo che ho fatto io sono fatta capire se tu decidi alcuni oggetti che trovi ti apre appoggiala appoggiala ma vabbè appoggiala c'è il tasto tac apposito c'è il tasto apposito apposito appoggiata ora io lo voglio accendere tasto sinistro tasto sinistro ora l'appoggi e se io voglio spegnere il clipperino qua prendi questo da me per iniziare un capitolo ancora niente ambo avevo l'inventario tenendo premuto va bene così fin qua lo so allora non so che ho ok c'è la mannestra tasto destra del mouse c'è la sinistra tasto sinistra del mouse capito eh ma vedi io lo sto cliccando ma non si spegne tasto destro del mouse eh è possibile ah guarda ma come è possibile cazzo non so non lo so ma che non mi rogo posso sinistro tasto sinistro tasto sinistro no no senza da fare tasto sinistro niente non fai nessuno di due aspetta ok ho capito e qual'era? tenendo premuto ah grazie ma tu vuoi che io ti cuccai incia aspetta un attimo perché sta cannita sta facendo se mi ho capito che ho fatto all'inizio dove sta cannita si e poi si ostura no 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 allora io la butto qua aspetta aspetta me lo fanno picca luce ci si vede l'interruttore la luce no oh kufu kufu aspetta un attimo no io ho paura di queste cose non le posso vedere non le posso vedere non fanno niente promesso non fanno niente chi è quel coglione che ha inventato le bambole con gli occhi grandi e alte esistono i bambini sono la stessa cosa che c'è qua dentro è uscita eh no è cazzo che esco aspetta un attimino andiamo un attimo qua faccio un disegno john è me c'è a dire che i cannili si possono salvare pure ah si può salvare i cannili vero? ah ma posso fottere i cannili che è in modo di dire prima aspettate si va a mettere l'inventario tutto può salvare in fin dei conti tutto oddio perché tutte le stanze sono in buia ma qua la casa continua questo biglio è un castello non è una casa è una reggia ma c'è un sito in etica chi è l'interruttore? dov'è l'interruttore? c'è una porta questo che ci vuole? eh non sono abituato con queste case ah che sta una volta a me a fuori? a caccia su sod e chi sta a ruo chi è? chi è di lattini di sigarette che c'è qua? ricordi che controllo anche i cassetti che chi? di cassette ah ehi hai trovato chiave con attaccato il simbolo elettrico ok questo è di una cabina il simbolo elettrico di qua non è così proviamola proviamola è quasi scarico come scarico? scarica puro che vuol dire alessandro come darci a specchio? no la c'è lo sacchietto grande si è uscito vai buttarlo poi ecco si scarica puoi aiutare come vuol zittare? si è scaricato e non si può ricaricare no faccio che tipo non si può ricaricare ok mi mancherà no come si studia? qua c'era andata e qua pure vieni sì mi sto confondendo la casa non è grande dobbiamo scendere ti faccio tutta in stanza eh appunto ho duro che giro come un po' non si apre scusa la c'è di un po' la c'è di un po' il signore mi ha messo la cosa scusa domenica nel momento in cui vi riserva ma se io voglio fare tipo così e voi voglio fare così no basta scherci spazio che orologio di merda non è grande e poi vedi ah ti serve chiave attaccato no non ho letto ho uno specchietto ho uno specchietto non ce l'hai ancora ti serve chiave con attaccato ho uno specchietto ok è la cosa con fumigli dove mi chiede la madonna quanto è grande ma qua dove sono sponato e a destra se non è tutta rete non c'è niente seguo la strada allora questa non si apre qua ci vuole lo specchio poi qua ci vuole un altro specchio questa non si apre qua si va fuori non si apre no non ci vuole la chiave chiave del seminterrato il seminterrato dove è il seminterrato e se il chiave non c'è hai ragione eccolo non c'è fuori no no ho imparato la lezione ti vediamo il garage che chissà no no schiaccia looking for ah testo testo cerchi la chiave del garage eh la parola è lasciata nella tasca dei jeans e nella lavanderia come sempre ringraziami dopo ma se tu sparai ah per favore grazie la mica se non mi ricordo un cazzo la lavanderia che non mi ricordo la lavanderia era sopra era che mi ero la lavanderia la lavanderia non so sia sopra la lavanderia no cazzo dico per forza sotto deve essere qua nei piani questi qua io già alla casa non scudai allora vedi che ti avrebbe una memoria comunque quindi specchio credo eh ti avrebbe una memoria si bello specchio chissà non si apre chissà non si apre chissà non si apre qua c'è il cesso picchicca che cammina a che piano son cazzo si che c'è il cibo questa non è una lavanderia ma c'è delle luci no questa è quell'altra questa è una dentro ma c'è l'altra questa non è una lavanderia perché non me la ricordo dove era la porta la chiave nella lavanderia non me la sto ricordando la lavanderia qualcuno mi dica dov'è la lavanderia no no era un'altra parte della stanza mi sono perso un jeans io so questo il cesso allora questa non l'ho aperta ok se non è nella lavanderia è qua la lavanderia io non mi ricordo no ma non c'è la lavanderia non è una parte perché non me la ricordo ragazzo la mia chiave ti vuol dire quanto l'ho anche nei cassetti ora ma guardate i cassetti si ha senso ci sono 50 cassetti ad esempio caccio cosa sembri a non c'è un giorno di work sento rumore di chiave non so di chiave so cosa dov'è vento questo non è vento tu pensi che quello sia vento che lampadeo si muove si muove già si muoveva comunque quello non è vento perché non me la ricordo ma cazzo è la lavanderia canne che sono no guarda che io ho a pedra di mensura per una lavanderia va ah le dirò di dove voglio no ok che non me la ricordo la lavanderia no 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 la lavanderia non sova te sotto non c'è nel seminterrato allora nel seminterrato giustamente la lavanderia si trova sempre sotto però c'è chi non c'è la lavanderia non sa dove cazzo è cammina la lavanderia qua è sempre la chiave di garage ti serve via la chiave di cementerrato la lavanderia dice che ci gioca la chiave di cementerrato e si fa questa lavanderia ma se di qua o non dietro è di qua o non là che ne sa c'è anche il stesso come lo spiego ah beh in effetti io mi ricordo che sono andato a destra in primis qua in questa porta qua che non si apre mi sembra che vado in cementerrato ma non mi ricordo dov'è guarda qua le cassette non mi ricordo comunque non mi ricordo che là sotto mi sembra che sopra la facesse tutta 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 accendi qua la luce ecco eh ma non sopra guarda sopra no non c'è un cazzo niente ma che cazzo non spegni a fare guarda che c'è che posso dico dio di qua non c'è un cazzo di qua non c'è un cazzo guarda meglio in un'altra stanza qua di nuovo vorrei trovare un jeans no no c'è niente quella è un'altra cosa ti sembra più una gara del garage eh no eh no eh eh no eh si cazzo te lo apro io ok si cazzo non è un problema mi stai dicendo che sia qui dentro no guarda di front di front è busato eh oh come sei incazzo incazzavo aspetta 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 ma dove ah dopo dopo lo fa andare eh ma non mi ricordo un cazzo eh no eh dai è un cazzo è un bordo ragazze regalo se siamo interrato ma aspetta e ti deve sei qualche parte qua aspetta o' aspetta aspetta l'italia pubblici indirizionale direttore non tende la maggiorata nemmeno per un momento la maggior parte del tempo si vaga a casa non di trovare un oggetto davvero utile alcuni chiamiamo porto sulle che non contengono nulla oggi migliorare l'evento che permette di proseguire per l'avventura spesso non bisogna effettivamente ma non che buttana non va a dare a forza video perché non mi vado più no un'impronta facciamolo che in una stanza è meno dove no si è aperta quella porta là sotto ah era una ma nea disse ecco toc fanculo tua madre toc toc aspetta vedi non puoi mettere in passi in questo gioco eh lo so Ale ma non mi guardavo come si apriva si sente nella live che parla che cosa no perché mi sono mutato ora mi sono rismutato non so se si sente buh ma non lo so controlla come stiamo dicendo è appena apposto lo continuo che stavo dicendo una chiave chiave siamo interrato allora Gesù Cristo ci accompagna sempre in questi casi deve stare solo zitto non si accende ah non è spentuto questo è un problema io lo so che tu mi vedi e io ti posso pure vedere io sentivo chi è quella là sotto oh fuck questo che piano è non me lo ricordo ah si si non me lo ricordo non posso spegnerti eh prima non potevo accenderti è sempre un passo avanti io questa porta la chiederei che è dering basta che non è scelto l'elevisore a cammini e tibuccio ma se faccio esco se fa mica si stoppa il gioco se faccio esco così no c'è scritto pausa però qua c'è scritto pausa vabbè qua è inutile che lo apro qua è chiuso oh fuck dovrò restare qua dentro minchia vero o cosa? o dovrò uscire fuori e dai però non voglio uscire usciamo allora lei si trova esattamente qua la stanza non so quale sia però io vado dove stiamo interrato dove c'è esattamente qui stiamo interrato qua è quale garage come garage cazzo dici garage qua deve stiamo interrato questo dice qua dietro allora ah dering questo inventario no perfetto accendino dietro di te dietro di te si ok ah vedi come non vedi ma c'è già la luce accesa ma stai scherzando non si vede un cazzo qua dentro la candela la candela dove è? qua toc devi smettere ti spacco non buttare la candela ah ok toc io non voglio dire a cazzo una candela che non fa luce gioco di merda si ancora questo sono io quando fumavo io vado dalla parte un posto in cui un posto in cui ti sento dove cazzo sono qua? qui che studi? vabbè sto l'altro acceso buttana da miseria ma è una villa scusa eh non è che è una cannela su una mano no ma io non entro qua a dire il cazzo no cambialo f butta prendi usa c'è l'interruttore che l'è adesso ah apriamo apriamo la luce apriamo la luce secondo me oh ma è Nicola ok io ho detto io ho detto io ho detto io ho detto che non è fasmofobia no tanto ne ho detto in corso in corso non c'è a fare troppe porte che si aprono se lasciati dietro gli oggetti dinamici che sono essenziali aspetta aspetta vedi che c'è un martello Ale a mia vecchina mi compario non c'è un martello perché praticamente c'è anche questo martello a capo mio ma non c'era no c'è un martello non posso mettere a chi sta a posta canile ma che quadro brutto mi dimentico puoi fare lo zoom non mi vedo come fai le esche ah in da 10 secondi no si posizionava solo se lo lasciano indietro tornava là e a quanto c'era scritto tu lo sai cosa posso fare con questa candela davvero eh ma guarda questa stanza vero no che sai che le sei in altre persone ok si certo che ho guardato ho un serbatoio un serbatoio un'altra candela oh yes mi piace una candela molto meglio la luce però la cazzo è chiave non è chiave qua ah ok ma una candela e non hai paura di usarla ma io così così mi guardo dall'altra stanza aspetta ok chiusa perché la posi questa è la chiave che dove sarebbe prima si ma io non posso andare la oh ma che cazzo gioco di merda è ma a me non facevano sentire niente ecco voi ancora minchia l'uomo sta candela camere l'altra chiave che hai l'altra chiave se è quella che hai di fronte questo no ah quella scusa non te la prendere posso dopo quindi prendo questa no no perfetto come no ah si io chissà di aprire sai quando dopo tanto guarda il cittadino mio tutto e tutto lo futto no dai che ho tre mani si sta pizza no non lo posso mettere minchia eh io la lampada una sua lampada i vasticchi tutte cose c'è no perché c'è l'introduttore no no si ma chi da chi aspetta la pochia mi aspetta a due vabbè dai c'è la lampada c'è l'introduttore adesso no ma la sento troppo vicina santo non arriva l'introduttore non arrivo faccio il giro non cambia un cazzo l'introduttore vado con gli occhi chiusi no c'è 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 hai sentito il tuo accendino quasi scarico ne ho due ne ho non sono scarichi quella a destra per me accendi la luce tutta chi sta nella stanza ma c'è accendi la luce per accendere ma era che c'è due secondi fa l'introduttore l'introduttore vado a destra se c'è qualcosa ok dentro guarda dentro figlia chieda non so che cazzo non vado a dire non so se lo sai fai maggi minchia vado a diventare roba ecce qua Emma la puoi prendere in con facciamo che butto questo così vedi la puoi utilizzare vedi perfetto a cosa serve me lo dire più avanti il gioco non vado a fare ciao fai zoom no mi basta vederla così ah ma si sta andando popolazzo ah ok troppo forte non rompere i coglioni eh sei già venuta perché io andrei verso quella stanza ok che è la stanza in cui stavo andando prima questa non era indietro una zarenga ok 5 10 15 20 ah 25 30 vabbè c'è tutto tutte va la seringa scatta volo ok mi sa se c'è una fria non si sa non è sempre accendita se si spiega poi ne ho bisogno tanto ci sono altri di riserva c'è c'è la livella c'è c'è una luce adesso d'altro b ok 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 qua è dove ero prima se non sbaglio o no qua è il cesto di prima o no si ma c'è una scia poco fa tutto non è seguito perfetto hanno fatto il giro del vaffanculo tecca l'accendino e no e dai posso il tavolino a destra si ma non me lo dire te lo dico perché se no poi non lo sai eh tu lo sapivi si puoi fare tutto un giro per quanto anche per farlo che con questo gioco indizio del gruppo parola no che cazzo fa mi sono cagato acqua dov'è l'acqua aspetta sto arrivando manche acqua non c'è venuta non c'è venuta non è quello che è durmato Grazie a tutti. Sono ancora qua. Aspetta. No, c'è un po' di ventura, te lo godi. Che gioco di merda, andiamo avanti. Allora. Qua abbiamo tutto il coso, quindi lo apriamo. Uno. E due. Andiamo verso dove è andata lei. A ver quando. Che cazzo è Spiderman. Il tuo muro. Sì. Sì. No. No, non posso guardare. Che sta succedendo? Io vado a vera a destra. Guarda qua. Avvicinati. No. Ah no. Ah, si fa. Che cazzo è. Cosa è che cazzo di merda. No, no, niente. Ricordavo male io. C'è un accendino. Non so se te l'aviste. Non mi trovi la luce. Sei sempre oscuro. Ah, ok. Oh. Oh. Mi ha chiuso qua dentro. Dove vado? Vai. No. No. Ma oramai ha. Grazie. Ma voleva solamente attenzioni, dai. Che cazzo è sta luce? Ah no. Chi è di un ascensore, giusto? Oh. No. Non to bello. Oh, vada, Zemo. Ma davvero. E com'è? Gut. Eh, va bene, sì. La casa sull'albero. Ah, io ho un canale, va bene. Adesso. Ma, io ho un canale, va bene. Ciao. Oh. Ah Ah I 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 quindi io ero fuori ora sono dentro interruttori a terra ah no eh troppo ma io butterei questo di ora e prendere questo qua ok a 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 come faccio ad entrare apri c'è la la disturbo non ne vale la pena secondo me dico che vuoi se vuoi giocare? a me non voglio giocare non ci dici non scusa io te l'ho detto che si incazzava ciao ma te ne affanculo pure tu ma tu ti scordi in merda esci esci via e posso andarlo ma non dà shh quel cazzo mi entro ciao vuoi il giro c'è una stanza no cosa no cosa no questo è il cesso scusa so che prima io non volevo entrare me lo hanno detto però non l'ho fatto apposito non c'è la prendere così tanto non c'è addirittura spunna 1 a coppite stati posso bere posso bere sono pronto il tuo livello sanità è pericolosamente basso a posto ssss ssss permesso ssss scusate e no Non funziona così C'è un letto Magari ci hanno scopato Ma io non lo voglio sapere E' anche sporco Di bianco Ma quella è panna Andiamo avanti Permesso Troppe gabbie Troppi uccelli Ma tu l'hai vista? Non ci voglio andare Che gioco di merda Datemi una candela Una candela Chiede le gabbie Ci sono tutta la testa Sto pezziligno Va bene qualunque cosa Dico Tanto c'ho visto Il stecco dietro E' lì Non ci voglio andare Figlioli Io non ce la faccio Mi sono confuso Dove sono? Ok No dove cazzo sta andando? Aspetta Non è tipo qua Ah Ah le vuole sapere Se l'hanno scopato Dice Che come? Vuole sapere Se l'hanno scopato Eh si Attualmente ho trovato Tracce di panna Quindi non credo Ma glielo chiediamo a questa dolcissima bambina che c'è qua dietro Che è molto probabilmente traumatizzata Ma noi glielo chiediamo lo stesso Ma io dove cazzo sta andando? Ah ok lei è qua dietro Allora E' troppo vicina Non lo sapevo che era così vicina Perché cammini? Vuole camminare? Non sta camminando Zitto Accendino Apri l'accendino C'è una lampada? Zitto Dove è la lampada? Quella sotto Sembra funziona correttamente lo sapevo funziona Tutta la mia senscena Oddio non ci Cosa è la faccia? Fa paura Non ci voglio Devo dare un bacio Quanto mi devo avvicinare Non lo so Godo Se è andato Godo Ah Sono tranquillo Eh no Non è venuto il suo cuore Eh no Eh io che ho detto Godo Intendevo qua dietro Mi stavo messo Cioè c'è un letto qua dietro Capito? Apposto ho detto Godo Perché era Ma ci hai capito? No Eh non è perché si sta incazzando ora Eh Non è colpa mia Dove? Sei andata Se la senti Ciccio? Qualcosa sento Sento l'asma La solità La porta La mia porta C'è il dino sotto Guarda c'è il dino La sinistra Inistra sinistra sinistra Vabbè E qua? Ancora c'è il cuore C'è il cuore Ancora C'è il viena viena qua C'è il cuore Non c'è più C'è o non c'è? Allora facciamo una cosa Tu vai là Brava Io Ti passo dietro E me ne vado Però non ti dico niente Ok? Vai 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 Ancora più avanti Bravissimo Tranquilla Vai tranquilla Cazzo La chiave è la stanza delle gabbie Sono nel stanza E' piena di gabbie Dove cazzo è la chiave? Prima che viene lei Non è che la vi E mi fottivo Inoltre già c'è No Sta arrivando per di qua No 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 Dove va? Ah Che è? Ti è cazzata Aiuto Non è ancora più veloce Vero? No Non vedo dove sto andando Faccio il giro La luce No Non mi puoi fottere la luce Ma che palle Dove cazzo era La cosa Eh no Eh Dico io Ce l'ha lei Ce l'ha per forza Mi devo farle toccare Dammi sta cazzocchia E dai Ma non la sento più normale Dove anche se non lo No che mi manchi Però Ecco che la sento a posto Tutte le parti Può andare Ui lenta E andate violenta Guardate di qua Via 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 Perché sta chiave? La sto cercando Non vedo un cazzo Allora io li lascio aperti Così so che sono Passato di qua Ok Andavanti Ma cosa Dove ma le luci? Faccio un letto Ti accendo le luci Ma quella puttana Mi spegne Cazzo Ti accendo a fare Perché ti accendi Non è molto D'assai Nonna Via Eh no però Se sta andando Via La sentina si scaricò? Eh no Ora l'ho preso Cazzo è Clipper di cinesi Bastato Pone il monoclipper questo Mi sa Andavanti E deve pure Restare da quella Fu parte Mi sono Tutti a cercare Qua è Allunque Non mi ha Si cazzo Nampatini Esatto E qua ci sono Lo stato Io ho Sto all'altro Lato Rampi Coglioni Ma fai tutto Il giro Completo Che carica Che è Sto Ah Due cindini Ah Due cindini Exacto Estai andando Perla Si Segura Si Ok Lo estoy donando No Di nuovo Apri Questo se non sbaglio Oppure controllate Ma li ho controllati Ovviamente Ciò che appunto Non è controllato E fin qua L'ho capito anch'io Non volevo dovere Esattamente Aspetta Ah Ah No 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 Eh Dio Bono Sia Da quest'angolo Che l'altro L'ho guardato Tutto E non mi puoi dire Di no Ci so A che punto Che non controlli Bene Perché magari Entri nelle poste E te non hai dubbio Tenta controllare Guardate come Non vedo un cazzo Non si vede niente Ehi Dove questo E Questo Non si vede niente Ma ah vaffanculo anche qua e tira a mezzo cazzo vedi qua vabbè mi sta facendo un giro eeeh troppo davvero troppo orco basta spegnere le luci queste le ho guardate queste pure qua pure questo non si sposta per guardare questi qua non c'è un cazzo qua c'è un letto qua c'è una tenda mentre la tenda non si può andare le spunte di qua le spunte di qua credo si spunte di qua non 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 va mi sta con il conto libero lei teoricamente no ti aspetta ti aspetta ti aspetta la luce segui la luce tu tu sei qua ok brava tanto ora questa mi scopa questa mi scopa me ne vado eh ciao ciao ok ok si è un po' lento dentro le cose qui nooo apri questa porta apri 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 ap Oh no Ma C'erano due porte qua Prima Ora no Com'è che sto fatto? Uccello pisciante Vabbè non vuole accendere Non vuole lui Ho capito L'accendino non si vuole accendere Perché comanda lui giustamente Che cazzo devo fare? Allora qua c'è una porta Qua pure L'acqua pure L'acqua pure L'uccello non vuole parlare E l'uccello Eh no E l'uccello Dove lasci anche stare Per me non è un problema Dico E ora c'è l'uccello Non c'è l'uccello Su tutte pure la cellula Ho una porta Ok Noi lo chiudiamo Perché siamo giocati Uccelli Di legno Col cazzo davanti Vabbè Allora Col vici ridi Cavicciarid che bello grazie . 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 Ti capito lì ci sono da fare ancora Tu hai quasi all'inizio Non hai visto niente Non ho capito Non è possibile Non è fattibile Anche perché me ne sono andato Ho visto la porta aprirsi e chiudersi E io non mi muovo di qua Io farei così Dai avanti Che cazzo stai dicendo Mi è esploso il cuore Buttana di Eva Non ce la posso fare giocare a questo gioco Io non ho mai detto Mai uscita queste parole dalla mia bocca Io per il primo capitolo Tipo un'ora e mezza Che stiamo Aspetta Dico già ormai No no Lo stiamo con l'acero Abbiamo finito Per stasera Mi è piaciuto Cose giuste Ma è impossibile Cioè non si può fare Cioè non posso restare Restare così io Manco tu stasera io Faccio matanati Eppure domani Come ti fai una sua mensura No Non ce la faccio Hai un cuore che Ave un bit dell'anno 90 Da sto momento Ma è stato un piacere Ma è stato un piacere Mi è piaciuto La cosa è giusta È figo Molto complicato Bisogna capirlo Non troppo Però Basta Quel che è troppo È troppo È troppo È troppo Mi devo guardare Qualcosa che mi faccia Rialegrare La cosa che usavo Quanto lo pisco Quanto lo pisco Sappi che due ore È dieci ore Dieci ore? Io non resterei qua Dieci ore Vabbè dimene Quanto ore Quanto sei A 35 secondi Come 35 secondi di gioco? No non hai capito Mi sto guardando questa cosa Che ti stai guardando? In modo Che reintegro Tutto quello Che ho perso Finora Ne ho bisogno È dura Dieci ore Me le guardo Tutti e dieci Che fai Che fai Che far Può bastare dai per stasera, domani faccio l'altra dose Può bastare dai per stasera, domani faccio l'altra dose Ok Va bene, il gioco lo metto qua, è stato bello, un'esperienza mistica La lib la posso stoppare, ma stavo, cioè avevo la live con te, stavo facendo la diretta e sto registrando Ah, come ho fatto il cinema da mia? E che cazzo è? Un'ora e mezza Minchia, quanto cazzo ho registrato? Un'ora e mezza Un'ora e mezza C'è scritto esatto E mi che c'entra? Video, sul video No, sul video salva Aspè Ah, ancora la sinistra Ah no, ok, lo scritto, ok, ok, ok Ok, ok, ok Ah, ora l'hai fatto Sì, sì, sì Ah, ora l'hai fatto Ah, ora l'hai fatto Ah, ora l'hai fatto Domani No, domani, santo Eh, dico, è l'una Non me lo posso permettere Ah, certo E' stato bello Non lo nego Ugo, poi mi stava picchiano Prima Però Però ti dico la cosa Ah, non è vasto Tu io muoio anche 7-8 Non ho capito Io muoio anche 6 Tu non muresti mai Fino Ma anche se vuoi morire Certo, se vuoi morire Ah, ok Vuoi anche 5-7 Voi lo mi rogotto Voi degli incontri L'avvicinare No Non mi piacciono C'è il covid Nel gioco non c'hanno le mascherine Eh, ce l'ha a dire Eh, poi ce l'ho dico Sempre a distanza Non c'è un bisogno Che mi avvicino Va bene, vabbè ti scherzi E' stato un piacere Alessandro Ci sentiamo domani Buonanotte Ciao